Eccoci qua, eccoci qua, buonasera a tutti. Diamo inizio a questo settimo appuntamento con l'Alex Consult. Oggi tratteremo degli argomenti molto interessanti, argomenti che peraltro sono stati scelti da voi. Prima di tutto i chiarimenti sulle attività che possono essere svolte dagli agenti immobiliari dopo la riapertura, quindi dopo il 4 maggio. Dobbiamo cercare di capire un attimino questi ultimi provvedimenti del governo, che cosa intendono consentire, che cosa invece intendono citare. Sappiamo tutti che ci sono stati parecchi contrasti circa l'interpretazione di questi ultimi provvedimenti, del resto come ripenseremo dopo è una normativa di urgenza, per cui è comprensibile che ci siano cose difficoltà interpretative. Poi ci affronteremo un secondo argomento, che è anche questo schiesto da voi, che è relativo alla validità della firma elettronica avanzata. È una nuova tecnologia che dovrebbe consentire finalmente agli agenti immobiliari di poter gestire la sottoscrizione degli incarichi, ma anche delle proposte di acquisto e anche dei contratti preliminari da remoto, quindi senza incontrare fisicamente le parti. e ci si chiedeva circa la validità giuridica, la validità legale di questa nuova tecnologia. Come sempre il nostro team è forte, abbiamo la presenza dei nostri formatori, in primis abbiamo la presenza della nostra Caterina Carretta. Come va Caterina? Non ti sentiamo, non ti sentiamo Caterina. C'è un problema di microfono probabilmente, forse... No, 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 non ci arriva il microfono. Buonasera, si sentite? Eccoci qua, perfetto. Buonasera a tutti, tutto bene? La carretta è importante sentirla bene, quello che dice la carretta è oro colato. Siamo pronti per questo ottavo webinar, tutti pronti, carichi, perfetto. Poi abbiamo un altro avvocato prestigiosissimo del nostro team, l'avvocato Francesco Brescia. Come va Francesco, tu sei pronto? Bene, bene, buonasera a tutti. Ah, dimenticavo di dire che Caterina relazionerà ecco sulle novità dal 4 maggio, mentre invece Francesco sulle novità circa la validità della firma elettronica avanzata. Ma come sempre, ormai è diventata una tradizione, il nostro incontro verrà aperto dalla nostra giovane collaboratrice, il nostro giovane avvocato, avvocato Gerarda Del Guercio. Come stai Gerarda? Buonasera a tutti, tutto bene avvocato, siamo prontissimi anche questa volta. Beh, Gerarda ci farà la solita introduzione spiegandoci un po' come funziona il sito Lecce Consult e se c'è qualche novità. Permettetemi ecco però di non venire meno quello che è un obbligo morale e quello di ringraziare la nostra regista, Clara Manzione, che è sempre così efficiente e disponibile nell'assisterci nelle nostre trasmissioni. Detto questo, passiamo subito ai fatti, abbiamo tanti argomenti da trattare, ci siamo ripromessi di stare nei 60 minuti, anche perché chiaramente oggi siete tutti impegnati, le agenzie sono riaperte e quindi il business chiama. Anche per noi, come potete notare, l'ambientazione è totalmente nuova, siamo tutti giacca e cravatta, questo significa evidentemente che siamo tornati in ufficio. Bene, siamo pienamente operativi e quindi è il caso di essere operativi anche nella nostra giornata formativa. Prego Gerarda, buon lavoro. Allora sì, proprio per esigenza di brevità questa volta faremo una spiegazione molto breve e veloce di quelli che sono stati i moduli presentati durante gli scorsi webinar, che come ormai sapete tutti vanno dal numero 5255 al numero 5265, ve li ho raccolti in un'unica slide in modo tale che potete prendere nota di tutti quelli che possono essere i moduli che vi interessano e perché questi sono tutti i moduli che abbiamo caricato sul sito in questa fase di emergenza dovuta al coronavirus. e quindi come sapete trattano della possibilità di gestire le trattative a distanza e oppure per esempio della possibilità di poter gestire diciamo il contratto di locazione dell'immobile adibito ad agenzia e quindi di sospendere il canone di locazione o di ridurre il canone di locazione oppure di potervi permettere di gestire diciamo così la fase logistica della trattativa e quindi quella magari di dover prorogare la data della stipula degli atti pubblici o per esempio di prorogare anche gli incarichi perché ovviamente con la chiusura delle attività sappiamo che abbiamo avuto un po' tutti la difficoltà di gestirli in questo periodo quindi i numeri sono tutti questi prendete nota anche se come sempre vi ricordo che potete cercarli cliccando direttamente su area documenti qui nel diciamo nel banner blu del nostro sito e cliccando su moduli ovviamente vi compariranno questi come ultimi e potete scegliere voi a seconda di quelli che possono esservi più utili diciamo che però questa volta a differenza delle scorse volte ci siamo proposti di farvi vedere anche altre sezioni del nostro sito perché magari ci rendiamo conto che anche per esempio quando dovete iscrivervi ai corsi di formazione magari non avete ancora buona conoscenza di questa sezione che è esplicitamente espressamente dedicata all'area alla formazione e quindi cliccando su formazione si aprirà un banner in cui potrete vedere i prossimi corsi il calendario dei corsi o anche il calendario dei corsi che vi permetterà appunto di iscrivervi direttamente dal nostro sito o alla fine potete vedere tutti quelli che sono stati i vecchi i corsi di formazione quindi i vecchi webinar che abbiamo svolto durante questa fase così come tutti gli altri corsi di formazione tenuti dall'avvocato ad Aragona o Carretta o Brescia e direttamente in aula ovviamente mentre i webinar... Gerata chiamarli vecchi mi fa un po' esagerato dai stiamo parlando degli incontri della settimana scorsa della settimana l'altra e della settimana l'altra ancora, nulla che riguarda il secolo scorso per vecchi comunque intendevo corsi in realtà fatti nei mesi scorsi ma anche prima della fase emergenziale avvocato la settimana scorsa, ah sì certo poi ci sono i corsi quelli che facciano ancora nel periodo in cui ci si poteva incontrare fisicamente in questa fase del coronavirus stavo dicendo che questi corsi a differenza dei webinar sono divisi in pillole di mezz'ora perché siano più facilmente consultabili e quindi come dice sempre... Scusami se ti interrompo un attimo, circa i webinar ecco oggi abbiamo avuto parecchie richieste da parte degli agenti immobiliari di cambiare un po' l'orario perché chiaramente questo è un orario adesso operativo ecco se ci fate arrivare delle whatsapp, delle email, circa l'orario che secondo voi, anche il giorno e l'orario che secondo voi sarebbe il momento ideale per poterci incontrare senza andare a intracciare con le vostre attività operative. Scusami Gerata per averti interrotto. Ovviamente andiamo avanti, allora quindi avevo detto il fatto delle pillole dei corsi divisi in pillole di mezz'ora perché come dice sempre lei, avvocato, invece di nelle varie pause che possono fare anche durante gli orari lavorativi invece di andare a fare mezz'ora di fatti degli altri su Facebook magari ne approfittare per formarsi per continuare a formarsi sapendo che è fondamentale. Andiamo avanti, altra area che è poco conosciuta a quanto apprendiamo diciamo dalle varie consulette telefoniche è quella relativa alla formulazione dei pesiti che è un altro delle nostre diciamo così offerte consulenziali molto molto importanti questo perché ovviamente sicuramente ci rendiamo conto che la consulenza telefonica è il primo il più importante dei servizi che noi possiamo offrire che però non in tutti i casi può essere soddisfacente o comunque ci possono essere variati casi in cui un parere scritto da un avvocato può essere molto utile per esempio per andare al comune il quale non ci vuole rilasciare determinati certificati oppure mi è capitato anche che uno dei miei pareri sia stato fornito ad un notaio per la stessa esigenza e quindi ecco io nel consigliare durante le consulenze telefoniche questo tipo di servizio faccio sempre questi due tipi di esempi perché mi rendo conto che sono diciamo così quelli che possono essere gli utilizzi più utili ecco ecco e volevo dire questa è l'area formazione in cui come vedete compaiono tutti e cinque i consulenti telefonici area quesiti area quesiti area quesiti scusate ho sbagliato area quesiti in cui compaiono tutti e cinque i consulenti telefonici a cui potete ovviamente chiedere direttamente il vostro quesito formulare il quesito cliccando scegliendo uno dei consulenti e poi vi si aprirà l'area in cui potete direttamente sottoporre appunto il vostro quesito ai consulenti detto questo avvocato il mio intervento doveva essere molto breve ti ringrazio di essere stata veramente sintetica perché come abbiamo detto prima oggi abbiamo davvero tanta tanta roba tanto tanto materiale da trattare volevo un attimino soffermarmi se torni un attimino sulla slide di prima sulla differenza tra la consulenza telefonica e i quesiti e i pareri hanno due finalità completamente diverse la consulenza telefonica tendenzialmente deve tendere all'istantaneità cioè diciamo che l'agente immobiliare deve utilizzare la consulenza telefonica quando ha il cliente di fronte quando si ritrova a dover dare una risposta in tempo reale è logico che il consulente telefonico in quel caso dà una risposta estremamente sintetica spiegando all'utente come si deve comportare come deve affrontare la situazione ma è logico non è un corso di formazione non potrebbe mai esserlo per cui tendenzialmente l'utente resta ignorante resta inconsapevole sulle motivazioni di quel comportamento che è stato consigliato cioè su quali sono le norme che spiegano quali sono gli indirizzi giurisprudenziali che giustificano quella scelta ecco questo è il motivo per cui quando invece il nostro utente ha diciamo non ha il cliente di fronte ma invece ha un problema piuttosto che rivolgersi al consulente telefonico è preferibile utilizzare i pareri perché i pareri sono estremamente completi spiegano all'utente qual è il motivo quindi quali sono le norme che regolamentano quel caso quali sono le sentenze giurisprudenziali che sono state già emesse e quindi perché si arriva a questa soluzione è logico che l'utente che legge un parere acquisisce competenza acquisire competenza significa poter tornare dal cliente ma può essere anche il notario può essere anche l'avvocato del cliente con un livello di professionalità molto superiore e voi sapete che questo oggi è fondamentale per assicurare un successo alla loro attività professionale bene Gerarda ti ringrazio abbiamo saluti per tutti i nostri relatori da parte degli utenti ricorda agli utenti che ci potete anche formulare delle domande abbiamo un apposito sistema che ci consente di ricevere e di proporre ai nostri relatori le vostre domande per cui vi invitiamo ad utilizzarlo detto questo possiamo passare all'argomento clou sappiamo che dal 4 maggio è stata consentita la riapertura delle agenzie immobiliari ma il decreto del presidente del consiglio dei ministri non è stato chiaro su quali fossero le attività consentite in particolare avete sentito un po' avete seguito anche sui social ci sono stati parecchi contrasti soprattutto per quanto riguarda le visite all'immobile le visite all'immobile consentite o non consentite non si riesce a capire davvero se l'agente immobiliare oggi è legittimato a recarsi sull'immobile del cliente ma soprattutto se i suoi clienti recarsi alla visita in altri termini se la visita all'immobile costituisce un motivo legittimo di spostamento su un argomento così delicato chiaramente abbiamo chiamato a parlare la nostra Caterina Carretta alla quale passo la linea buon lavoro Caterina non ti sentiamo non ti sentiamo perfetto non ti sentiamo non ti sentiamo ecco adesso è arrivata vai mi sentite? ok sì un po' un attimo eccoci qua allora buonasera a tutti mi è stato dato l'argo compito di racchiudere in poche battute a causa del tempo che stringe tra le altre cose abbiamo 60 minuti da potervi dedicare ed è veramente stato un argo compito racchiudere in poche battute quelle che sono state l'avvicendamento in questi giorni dei chiarimenti sull'attività dell'agente immobiliare in questo periodo di emergenza e in particolare dal 4 maggio in poi ossia dal momento in cui il governo col DPCM del 26 aprile del 2020 ha autorizzato la ripresa dell'attività di intermediazione che come ben noto a voi era stata sospesa in data 11 marzo del 2020 per poter in effetti iniziare questa questa disquisizione quindi su questi passaggi che si sono avvicendati che poi tra le altre cose molto confusi ci sono stati tutta una serie di chiarimenti interventi il governo che è intervenuto più volte con chiarimenti e con le prefetture che dall'altra parte contrastavano gli stessi chiarimenti del governo abbiamo cercato quantomeno di attraverso un'interpretazione asettica dei vari chiarimenti e delle disposizioni che sono intervenute di individuare quelle che sono le direttive per parare in questo periodo di emergenza per evitare di incorrere in errori ma più che altro di esporsi di fare in modo che l'agente immobiliare si esponga a sanzioni dobbiamo iniziare per forza di cose dall'articolo 2 del DPCM del 26 aprile del 2020 che come ben sapete ha sancito la riapertura dell'attività di intermediazione facendo riferimento in questo all'articolo 2 al comma 1 si evidenzia sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 come ben sapete in effetti nell'allegato 3 è ricompreso quello che il codice ATECO riconducibile all'agenzia immobiliare per cui secondo il dispositivo dell'articolo 1 sono sospese tutte tranne quelle previste nell'allegato 3 essendo stato individuato consentito alle attività ricomprese in questo allegato la riapertura dell'attività ed essendo ricompreso in questo allegato il vostro codice ATECO la vostra attività dal 4 maggio quindi ha ripreso normalmente tra virgolette quello che sono le modalità operative precedenti è normale che in effetti siamo ancora in un periodo di emergenza per cui anche se il decreto ministeriale ha autorizzato la ripresa delle attività è normale che dovrà essere un'attività che andrà a rispettare quelle che sono le vigenti misure anti-covid in particolare raggruppate in tre grandi branche distanziamento sociale misure igienico-sanitare e di vieto di assembramento da dove attingiamo diciamo queste misure alle quali attualmente le agenzie immobiliari ma come del resto tutte le altre attività per le quali è stata consentita la ripresa dopo il 4 maggio quali sono i passaggi che in effetti da dove si attengono abbiamo l'articolo 1 del decreto ministeriale del 26 aprile del 2020 che sancisce gli esercizi commerciali alla lettera db gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti oltre alla distanza interpersonale di un metro che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni quindi abbiamo già le prime misure che l'esercizio commerciale la cui attività sia stata autorizzata dopo il 4 maggio deve se non altro fare in modo che queste misure vengono rispettate poi va ancora oltre l'articolo 1 e ti raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui ha l'allegato 5 riconduciamo all'allegato 5 l'allegato 5 cosa dice in particolare mentre nei primi passaggi non fa altro che ripetere quella che è la sanificazione più volte durante la giornata l'utilizzo di l'uso di guanti l'uso di l'utilizzo di guanti uso e jet nonché mascherine e quant'altro nella parte finale e in particolare al comma 7 va a regolare gli accessi alle agenzie immobiliari o comunque agli uffici attualmente aperti e che cosa dice in particolare qual è il comma sul quale dobbiamo soffermare la nostra attenzione in particolare l'accesso agli uffici la lettera B quindi comma 7 lettera B dove espressamente fa riferimento che per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta oltre ad un massimo di due operatori per cui l'agente immobiliare che si ritrova un ufficio che ha una metratura fino a 40 metri quadri all'interno dello stesso oltre i due operatori non può che accedere che un solo utente nel momento in cui poi la metratura dovesse essere superiore va oltre il legislatore stancisce per i locali di dimensioni superiori a quelle di cui ha la lettera B l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili differenziando ove è possibile i percorsi di entrata ed uscita per cui se laddove l'ufficio dovesse avere una metratura superiore a 40 metri quadri nulla esclude che l'accesso possa essere autorizzato anche a più di un utente e in effetti sollecita o invita comunque l'agenzia a fare in modo che ci sia un'entrata ed un'uscita che non vada quindi a far sì che i due soggetti che sono entrati possono tutti fra di loro avere quindi una distanza inferiore a quella prevista dalla legge ancora l'allegato 5 nella parte finale sancisce informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata io penso che sono queste tutte misure che dal 4 maggio bene o male le avete tutte già prese in considerazione era soltanto un modo per farvi comprendere quelle che sono le disposizioni che vi sono state date da dove quindi da dove vengono estrapolate detto questo benissimo il decreto ministeriale del 26 marzo con l'articolo 1 stancisce la riapertura delle attività si riaprono le sedi ma la domanda che ci poniamo qual è possiamo stare aperti ma quali sono effettivamente le attività consentite è un dubbio che ci assale no? perché ci assale un dubbio? innanzitutto partiamo dal presupposto che il DPCM sono dei provvedimenti d'urgenza dei provvedimenti che non seguono l'interordinario di una legge per cui non sono leggi fonderate ma sono più che altro leggi che vengono emesse per più che altro far fronte a situazioni di emergenza imprevedibili per cui ci sta pure quella che potrebbe essere la sbavatura della legge la contraddizione o comunque l'omissione anche perché essendo una norma emanata di urgenza inevitabilmente qualcosa può sfuggire al legislatore ed è proprio questo che in effetti ci ha portato ha portato quindi i vari provvedimenti ha comportato che i vari provvedimenti che sono stati emessi durante questo periodo sono dei provvedimenti alcune volte anche contraddittori tra di loro e andiamo a vedere perché oggi noi siamo qui a cercare di darvi delle indicazioni perché ogni qualvolta che è intervenuto il governo o con un DPCM o con un chiarimento alcune volte si è addirittura contradditto e allora cerchiamo in modo asettico di capire allo Stato che cosa può fare l'agente immobiliare quali sono i dubbi che nascono dalle disposizioni attualmente in vigore Caterina mi senti? Io ti sento Umberto dimmi scusami dai io ci tenevo a intervenire su questo discorso della legislazione di urgenza perché anche nei vari commenti che abbiamo sentito sui social ma anche attraverso la televisione mi sembra che questo profilo non sia stato adeguatamente sottolineato si pretende di individuare all'interno di questo tipo di legislazione quella precisione quel tecnicismo che è tipico della legislazione ordinaria non ci si rende conto che queste sono norme che sono state partorite nell'arco di pochissimi giorni in tempi limitatissimi in situazioni di estrema emergenza e che hanno dovuto regolamentare un caso incredibile di fatti specie per cui pretendere che questo genere di norme sia preciso assolutamente coerente preveda una soluzione specifica per ogni singolo caso è assolutamente assurdo scusatemi la cacofonia è una pretesa impossibile questo è il motivo per cui è chiaro che ci potranno essere ci sono ci saranno ancora delle difficoltà di interpretazione ed è chiaro che solo successivamente solo attraverso degli interventi successivi del governo si potrà sperare che si faccia chiarezza su ogni singolo caso ma non dobbiamo meravigliarci affatto che in una prima fase ci possa essere confusione è scontato e la confusione riguarderà tutti riguarderà i cittadini riguarderà le stesse forze dell'ordine incaricate di verificare l'osservanza di queste norme riguarderà addirittura chi le ha emesse queste norme non ne parliamo poi di noi avvocati che saremmo tenuti a spiegarle ai cittadini vado? sì sì ok perfetto allora quali sono i dubbi che ci assalgono in effetti li abbiamo raggruppati in tre grandi dubbi i clienti possono entrare in agenzia per acquistare un immobile l'agente immobiliare può effettuare le visite sugli immobili i clienti possono seguirlo nelle visite ebbene allora per poter dare una risposta a ognuno di questi interrogativi dobbiamo fare un passo indietro ritorniamo di nuovo sull'articolo 1 del dpcm del 26 aprile laddove quindi viene vengono individuati vengono quelli che sono gli spostamenti allo stato consentiti in effetti l'articolo 1 alla lettera a sancisce sono consentiti attenzione solo gli spostamenti motivati da quali esigenze da comprovate esigenze lavorative da situazioni di necessità per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti nel momento in cui vi è la violazione di una di queste laddove quindi il soggetto si dovesse spostare quindi lo spostamento non è motivato da una di queste esigenze interviene il decreto legge numero 19 del 2020 con l'articolo 4 che stancisce fatto salvo che il fatto costituisca reato la violazione di tale misura comporta una sanzione amministrativa attenzione di non poco conto che va da 400 euro ad euro 3000 per cui sono sanzioni importanti dobbiamo un attimino preoccuparci e capire l'agente immobiliare nel momento in cui svolge l'attività se può incorrere in sanzione ma soprattutto se il cliente che si affaccia in agenzia il cliente che va in agenzia per poter usufruire dei servizi che in quel momento sta offrendo all'agenzia può incorrere in sanzioni questo in effetti è l'obiettivo del corso per quanto riguarda gli agenti immobiliari il problema non si pone abbiamo visto dalla lettura dell'articolo che lo spostamento può essere tranquillamente motivato per esigenze lavorative nel momento in cui ad un controllo vado ad esibire vado ad evidenziare che la motivazione del mio spostamento io ad agenzia immobiliare sto andando in ufficio o comunque quindi sto andando su un immobile per un sopralluogo è per un'attività è per un'esigenza lavorativa per cui il mio spostamento è consentito è legittimo e non mi espone alcun tipo di sanzione il problema invece si pone con il cliente per poter far fronte ecco vi dicevo come diceva anche Umberto prima i chiarimenti non sono mai chiarimenti anzi ogni qualvolta che interviene il governo quindi va a creare un'ulteriore confusione se all'articolo 1 quindi c'è le indicazioni di quelli che sono i motivi che permettono al soggetto di spostarsi per poter comprendere a questo punto quel motivo di necessità che cosa comprendeva interviene il governo con un chiarimento e va a specificare si può uscire di casa solo per i seguenti motivi quindi vi prende i motivi che abbiamo visto nell'articolo 1 per andare al lavoro per motivi di salute e poi va a specificare per quanto riguarda la motivazione legata alla necessità alcuni passaggi fondamentali che sono quelli dei visiti a congiunti per fare la spesa per acquistare giornali per andare in farmacia per acquisto di beni necessari alla vita quotidiana e poi quindi a chiusura ed è questo a cui noi facciamo riferimento per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti su questo motivo per necessità in effetti pensavamo ecco quindi o comunque con questo chiarimento il cliente che veniva in ufficio parlo sempre all'imperfetto perché poi sono successi altre sono intervenuti altri chiarimenti sembrava legittimo l'accesso del cliente in ufficio per quale motivo perché se tu se tu governo mi dici che lo spostamento per necessità ricomprende anche il motivo di recarsi presso uno dei qualsiasi esercizi commerciali aperti e mi hai autorizzato il quattro matto a riaprire l'attività è evidente che stai autorizzando implicitamente anche il soggetto a venire in agenzia per cui sembrava legittimo questo spostamento eravamo tutti tranquilli che il cliente poteva spostarsi sulla base di questo chiarimento orbene quindi io ripeto parlo all'imperfetto perché che cosa succede con la stessa con lo stesso con lo stessa modalità con il quale ha spiegato precedentemente che il cliente poteva venire in agenzia perché la necessità ricomprendeva anche la possibilità di andare in un ufficio allo stato aperto successivamente con un ulteriore chiarimento fa un passo indietro il governo difatti ad un successivo interpello e in particolare quello che con il quale si chiedeva al governo si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari il governo chiarisce e dice sì ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui ammesa la vendita espressamente previste dal DPCM del 26 aprile del 2020 la cui lista è disponibile a questo quindi allegato agli allegati 1 e 2 quindi che cosa fa il governo dice sì puoi uscire anche per acquistare prodotti che non siano alimentari perché rientrano in quelle categorie di genere di cui è ammessa la vendita e che cosa fa richiama agli allegati all'allegato 1 e all'allegato 2 siccome noi abbiamo detto nella premessa che l'agenzia immobiliare il codice ateco numero 68 riconducibile all'agenzia immobiliare rientra in quale allegato nell'allegato 3 implicitamente è come se avesse detto quindi non puoi muoverti perché quindi non è un genere presso il quale non è un'attività per cui è ammessa la vendita quindi fa un passo indietro mi esclude l'allegato 3 e quindi mi butta di nuovo in confusione ok manca l'allegato 3 dimmi Uberto ecco questa è proprio l'espressione di quella frettolosità redazionale alla quale facevamo prima riferimento cioè tu non mi puoi prima autorizzare all'apertura e poi ti dimentichi di autorizzare i clienti a venirmi a trovare cioè ecco è un passo indietro Roberto prima un passo avanti poi un passo indietro ma non è un passo indietro questa è una dimenticanza è un'evidente dimenticanza perché hanno dimenticato di considerare che all'interno dell'allegato 3 vi erano anche le agenzie immobiliari che erano state autorizzate a riaprire ed è chiaro che se mi autorizzi a riaprire è scontato il minimo sindacale sono le attività che io devo svolgere in loco il minimo sindacale per cui si tratta evidentemente di una dimenticanza questo è il motivo per cui se noi pretendessimo di interpretare la legge con i criteri ermeneutici normali è logico che rispetto ad un chiarimento del genere dovremmo arrivare a ritenere che i clienti non si possono regare nelle agenzie ma invece se adottiamo un atteggiamento di sostanza e ci rendiamo conto che effettivamente una legislazione che necessita obbligatoriamente di un minimo di tolleranza da parte dell'interprete è evidente che si tratta di una mera dimenticanza e che indubbiamente i clienti sono legittimati a recarsi in agenzia per poter fruire dei servizi di un'attività commerciale di servizi che è aperta non c'è dubbio sì ma non finisce qua in tutto questo perché in effetti a sollevare altri dubbi quindi se non altro intervengono le prefetture come ben sappiamo le prefetture non sono altro che organi periferici del ministero dell'interno che dovrebbero quindi a livello locale che dovrebbero coordinarsi con il ministero dell'interno invece che cosa è successo noi abbiamo fatto più che altro un escluso di quello che è successo ma poi tra le altre cose nel giro di 24 ore non è che in effetti sono provvedimenti che sono stati emessi a distanza di tempo addirittura nella stessa giornata prefetture e quindi in località diverse quindi dicono cose contrastanti però Caterina però Caterina se mi ricordo bene l'intervento almeno spero di non sbagliare l'intervento delle prefetture si è focalizzato su un altro problema ancora cioè non è stato non è stato messo in discussione che i clienti si potessero recare in agenzia qua il 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 quello che veramente ha creato scalpore sul quale non si riusciva ad arrivare ad una soluzione condivisa da tutti era se poi i clienti si potevano recare a fare le visite sugli immobili e lì si è creato il grande contrasto che ha dato luogo veramente a interpretazioni le più disparate provenienti da organi ufficiali oltretutto questo è che è più grave sì di fatti la concentrazione delle prefetture quindi è stata sopra e soprattutto sulla legittimità degli spostamenti del cliente per effettuare le visite di fatti in data 4 maggio la prefettura di Milano quindi due giorni fa lo escludeva di fatti nella parte finale quindi sancisce infine per l'effettuazione di un sopralluogo presso un immobile da parte dei clienti non sembrerebbe rientrare per i motivi ai senti dell'articolo 1 comma 1 lettera A del DPCM del 26 aprile scorso in quanto lo spostamento individuato non essendo riconducibile né motivi né di lavoro né di motivi di salute né di necessità quindi la prefettura di Milano esclude quindi che sia legittimo lo spostamento del cliente per procedere per visitare un immobile Caterina è molto importante evidenziare la gravità dell'intervento della prefettura di Milano per due motivi di fondo prima di tutto perché la prefettura di Milano per l'evidente importanza che ha determina sempre diciamo in genere un indirizzo per tutte le altre prefetture e quindi l'aver avuto questa indicazione ci ha davvero preoccupato e ha creato momenti di grande apprezzione ma poi contrariamente a quello che ritenevano alcuni questa indicazione della prefettura di Milano non è stata collegata al fatto che Lombardia è una regione che notoriamente diciamo è un territorio martoriato da questa pandemia no assolutamente non ha tenuto proprio in considerazione quelli che sono gli aspetti locali si è riferita semplicemente all'interpretazione della norma nazionale senza localizzazione di sorta stabilendo che in purezza interpretando la norma nazionale le visite non si potevano fare che è davvero chiarissimo è assurdo quindi questo tipo di interpretazione ma da Milano arriviamo a Lecco quindi anche la prefettura di Lecco quindi attraversa tutto lo stivale italiano e la stessa interpretazione si ha anche a Lecco quindi nella giornata del 5 maggio quindi due giorni fa quindi la stessa prefettura di Lecco fa lo stesso osservazione si segnale infine che l'effettuazione di un sopalluogo presso un immobile da parte dei clienti non sembrerebbe non sembrerebbe ecco quindi sempre il condizionale rientrare tra i motivi che esenti dell'articolo 1 legittimano lo spostamento individuale non essendo riconducibile né a motivi di lavoro né a motivi di salute né di necessità quindi da Milano all'Ecco l'orientamento è lo stesso i sopravluochi non si possono fare perché non rientrano nelle motivazioni che conseguono se rimane questo l'indirizzo la nostra è un'apertura solo teorica perché non serve assolutamente serve soltanto per la maggior parte dell'attività dei nostri clienti consiste fondamentalmente nel far visionare gli immobili per cui è davvero un handicap importante questo genere di interpretazione va a limitare sicuramente l'80% di quella che è l'attività che svolge l'agente immobiliare è normale che questo rientamento penalizza sicuramente l'attività allora dicevo vedete pubblicato io ho anche se non altro riportato il momento in cui è stato pubblicato e modificato siamo alle 10 di mattina del giorno 5 maggio nella stessa giornata ci sono state tutta una serie di indicazioni poi successive tanto è vero Umberto quindi puoi tranquillamente perché abbiamo insieme abbiamo predisposto questo webinar sulla scorta delle indicazioni che mano a mano quindi si affacciavano su internet che abbiamo dovuto modificarlo ho dovuto cambiare in continuazione ho dovuto cambiarlo in continuazione perché puntualmente le indicazioni andavano in una direzione diversa ogni 5 minuti una novità ogni 5 minuti una novità c'è un confronto tra me e Umberto e ogni volta che io vedevo la chat di Umberto andavo in panico ecco qui mentre stavo predisponendo la slide Umberto mi diceva leggi qui quindi è stato veramente attimi di tensione per poter assembrare un discorso e darvi delle indicazioni almeno oggi precise che poi eventualmente andremo a rivedere la settimana prossima ma sicuramente quindi sulla base dell'ultimo orientamento che attualmente siamo in grado di poter dare ai nostri ai nostri clienti in effetti seguendo poi l'iter delle varie prefetture abbiamo anche la prefettura di Firenze però questa volta la prefettura di Firenze si distacca da quello che è l'orientamento di Milano piuttosto che di Lecco difatti dice le visite possono essere svolte solo se c'è urgenza aprendo un ulteriore diciamo quindi dubbio sollevando un ulteriore problematica che si inventa è un concetto è un concetto molto opinabile chiaramente quando esiste questa urgenza e soprattutto come si fa a verificare l'urgenza davvero siamo nella nebbia più assoluta nebbia fissata sicuramente di fatti nulla ha fatto quindi anche questo ha chiarito quindi questa è la prefettura di Firenze che ha sollevato quest'altra problematica ma non siamo qui dicevo io vi ho fatto vedere i vari passaggi perché nella serata mentre avevamo già individuato quello che poteva essere la modalità quindi quelle che erano le indicazioni da darvi in questo corso nella serata del 5 maggio interviene il governo ecco è arrivato il governo chiarisce vabbè non fa niente se va a chiarire che ben venga di modo che siamo tutti più tranquilli e diamo delle indicazioni precise infatti il governo interviene e ribartando le posizioni delle prefetture chiarisce le visite sono consentite ma quel ma quindi incomincia quindi a farci tremare perché in quale direzione va adesso il governo ed è quella quindi sicuramente più problematica voleva chiarire ma non ha chiarito perché ha creato altri quindi problemi interpretativi difatti leggiamo che cosa dice a fronte di questo interpello il governo con il chiarimento le visite si possono fare sì tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da allocare o acquistare potranno avere luogo solo quando queste siano disabitate introduce due espressioni così equivoche che inevitabilmente quindi hanno creato altri dubbi interpretativi in effetti andremo da qui a breve andremo a sottolineare la nostra attenzione su questo concetto che cosa ha voluto intendere il governo nel momento in cui dice la visita si può fare solo quando le abitazioni sono disabitate e il cliente intanto può spostarsi se non con l'agente immobiliare quindi va a creare no aspetta 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 Caterina torna un attimo indietro sì torna un attimo indietro dice tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti guarda che questa frase è davvero sibillina perché questa frase può significare che sono autorizzati allo spostamento sia gli agenti immobiliari che i clienti oppure che si devono spostare insieme questa è una frase che è passibile gli oppi a interpretazione è davvero difficile capire il governo che cosa vuole intendere con questa precisazione e poi come dicevi tu il concetto di disabitato che significa disabitato mica c'è un criterio oggettivo della disabitazione perciò e quindi è su questo che in effetti adesso solo con tutta una serie di dubbi che cercheremo ma che di dare delle spiegazioni allora a questo punto ecco come tu dicevi che cosa intende il governo nel momento in cui visite degli agenti immobiliari con i clienti forse i clienti si possono spostare solo con gli agenti immobiliari a questo punto è normale che se mi va a legittimare uno spostamento solo con gli agenti immobiliari lo spostamento autonomo sarebbe sanzionabile oppure nell'ipotesi in cui cliente e agente immobiliare si spostano da un comune all'altro nella stessa auto inevitabilmente sarebbero sanzionabili quindi è una situazione che sicuramente quindi deve essere chiarita perché mentre per quanto riguarda nel chiarimento il governo fa espressamente riferimento ad un accompagnamento quindi il cliente per potersi spostare deve essere accompagnato dall'agente immobiliare per cui inevitabilmente se io ho un controllo e mi sto regando ad un sopralluogo e non ho con me e con me non c'è l'agente immobiliare inevitabilmente secondo questa interpretazione io sarei passibile di sanzione stessa cosa per quanto riguarda ripeto l'ipotesi in cui sono con l'agente immobiliare sto raggiungendo a questo punto un immobile un'abitazione che è fuori dal comune siamo nella stessa auto quindi tra un altro interviene un altro chiarimento che è questo che dice nella stessa auto soggetti non conviventi devono stare a un metro di distanza a questo punto l'agente immobiliare deve avere una limusina perché io non penso che in effetti o almeno un pulmanino o un pulmanino quindi ancora quindi altre problematiche quindi legate a questa espressione ermellina che in effetti in questo è menetica da parte quindi no no Caterina io credo che bisogna obbedire ecco a quella interpretazione logica che ci siamo dati come assetto rispetto a questa norma è stata scritta in fretta è stata scritta in fretta ma si intendeva dire che lo spostamento degli uni e degli altri è giustificato non necessariamente insieme almeno dobbiamo sperare che questa è la linea interpretativa che passi perché sarebbe davvero assurdo altrimenti Umberto il problema sai qual è che ogni qualvolta si interviene in questo settore non c'è una persona che possa indicare a chi legifera o comunque dà un chiarimento non ha la contezza di quelle che sono le modalità operative dell'agente immobiliare per cui inevitabilmente ogni provvedimento è un provvedimento che non prende in considerazione le modalità ma ma idea quanti sono i settori economici che questo governo deve legire stiamo parlando di quello che normalmente avviene in 60 anni in 100 anni questo governo ha dovuto affrontarlo in una settimana cioè stiamo di fronte ad una varietà di fatti specie che è enorme è senza limiti è poterle prevedere tutte è tutto il più possibile per cui è inevitabile l'errore la contraddizione ci può stare ci può stare assolutamente ci può stare quindi tranquillamente quindi dobbiamo andare alla sostanza e non fermarci a quella che è l'espressione questo è il consiglio che dobbiamo dare alla sostanza sì 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 questo è il consiglio che diamo sperando che poi nel momento in cui ci dovesse essere un controllo quindi sia quella l'interpretazione da parte sperando di non essere clamorosamente smentiti noi ci giochiamo la carriera stiamo dando troppa tranquillità state tranquilli non vi preoccupate ma no attenzione chiariamoci bene che cosa si intende per essere smentiti non saremo smentiti nel momento in cui ci sia il solito vigile urbano carabinire solerte che secondo una sua interpretazione personale commina al cliente comunque la sanzione no lì non siamo smentiti saremo smentiti nel momento in cui il governo con un chiarimento dice il contrario quello è vero l'essere smentiti chiariamoci bene su che cosa significa essere smentiti in questa materia sì va bene è normale va beh andiamo avanti perché il tempo stringe Umberto e quindi abbiamo altri passaggi importanti anche perché dobbiamo dare delle soluzioni delle indicazioni ai nostri clienti no di fronte a questa interventa la retta modulistica doc ecco perciò andiamo molto velocemente perché almeno diamo un minimo di indicazioni mi stai dicendo che mi devo stare zitto questo è il concetto non ho capito mi stai dicendo che mi devo stare zitto questo è il concetto andiamo velocemente ho detto non mi permetterei mai Umberto allora detto questo quindi i passaggi li abbiamo già anticipati abbiamo dei problemi interpretativi nel momento in cui il chiarimento va soltanto a sopralluoghi su abitazioni quando queste siano disabitati ma che cosa vuol dire disabitato ora in effetti due sono le ipotesi o che in effetti ci troviamo di fronte ad una una condizione temporanea quindi che l'immobile è disabitato temporaneamente e potrebbe esserci anche nell'ipotesi in cui io prendo l'appuntamento con il venditore e gli dico all'altra ora io vengo sull'appartamento fai in modo che non ci sia nessuno quindi anche qui in effetti il governo non è stato chiaro perché io posso tranquillamente fare in modo che al momento della visita l'immobile sia disabitato quindi dobbiamo cercare di capire se questa condizione il fatto che sia disabitato sia una condizione temporanea o permanente anche questo non è dato chiarirci ma se poi vogliamo sposare quella che è la razza della legge ossia quella di evitare il contagio perché penso che in effetti questa legge sia stata dettata proprio per evitare il contagio tu puoi andare sull'immobile solo nel momento in cui il venditore non c'è quindi non c'è la possibilità quindi che ci possa essere contagio da parte del visitatore o il visitatore quindi a sua volta possa provocare dei danni questa potrebbe essere un'interpretazione logica però se vogliamo sposare quella che è la razza inevitabilmente nulla esclude che se io faccio allontanare il venditore poi il fatto che il visitatore probabilmente possa essere un soggetto infetto a sua volta nel momento in cui rientra il venditore quindi potrebbe essere a sua volta infettato dal visitatore che aveva se non altro contratto il virus quindi è un'interpretazione buttata là per dire che probabilmente quella dell'allontanamento temporaneo sicuramente non ci può essere quindi dovrebbe essere più che altro una situazione permanente quindi non temporanea se vogliamo sposare quella che è la razza della normativa di controllo forse permanente esagerato ma diciamo che ci deve essere un periodo di tempo per evitare che ci possa essere contagio tra un accesso perfetto ma tanto è vero che noi abbiamo addirittura scomodato quelle che sono le i regolamenti comunali per poter individuare che cosa si rende per immobile disabitato perché abbiamo scomodato i regolamenti comunali proprio per cercare di dare delle indicazioni di massima perché il comune intanto va dichiara che l'immobile sente da imposti comunali quando risulta disabitato per cui abbiamo se non altro ripreso gli stessi principi che il comune adotta per poter capire se quell'immobile è disabitato o meno e quali sono i criteri sui quali il comune basa quell'estensione delle imposte o che l'immobile non ha l'allacciamento quindi le utenze sono distaccate oppure all'interno non c'è immobilio o altri arrivi quindi addirittura quindi abbiamo sconfinato in un settore che non ha nulla a che vedere che è quello quindi legato all'imposte però che ci permette quantomeno di avere un minimo di riferimento per dire ma che cosa si intende per disabitato il comune quindi intende disabitato quando non ci sono gli allacci non ci credo che sia questo il criterio ti ringrazio però quantomeno in effetti il concetto di disabitato in questo caso però attenzione Umberto chi è il soggetto che comunque è deputato alla verifica il vigile lo stesso soggetto attenzione ecco su questo aspetto lo stesso che in effetti poi è deputato a verificare se è disabitato ai fini delle imposte comunali attenzione non è che abbiamo un soggetto che si va a doppiare ho capito la connessione del tuo ragionamento è chiaro ecco io mi preoccupo di questo del soggetto che va a verificare a controllare se è lo stesso soggetto che è deputato a verificare ai fini delle imposte è lo stesso vigile urbano che a questo punto andrà a verificare se l'imposta che ha a questo punto io penso comunque in questo momento non possiamo far altro è ragionevole è apocalittico ma ragionevole è apocalittico ma ragionevole ma è lo stesso soggetto quindi la stessa divisa quindi che va sull'immobile con gli stessi criteri va a capire se effettivamente l'immobile è disabitato per cui potrebbe applicare anche gli stessi principi che applica in caso di imposte di esenzione di imposte comunali ma tu hai detto che è apocalittico quindi estremo comunque ci potrebbe anche stare e allora a questo punto ecco dicevo quindi a questo punto nella giornata di ieri mi sembra Umberto c'è stato quando c'è stato questo ulteriore passaggio ma io lo ho detto questa mattina è stato detto questa mattina benissimo quando ormai i giochi erano chiusi che ci stavamo divertendo che il webinar era finito era bello completato bello assemblato impacchettato siamo pronti per oggi pomeriggio Umberto continua quindi a chattarmi io quando vedo la chat di Umberto vado in panico scusami Caterina ma era importante inserirla a questa cosa sicuramente perché è fondamentale tra le associazioni sindacali c'era stata un po' di maletta questo è un buon momento perché indica che le associazioni sindacali hanno ritrovato la loro unità e stanno operando in maniera coordinata per relazionarsi col governo ed avere una maggior apertura è un bel segnale per la categoria guarda sicuramente difatti questi sono i passaggi in effetti nella giornata di ieri quindi la consulta si è confrontata con il premier quindi ha chiesto un chiarimento sull'ultimo chiarimento proprio per permettere agli agenti immobiliari di poter muoversi con tranquillità non si è consultata hanno chiesto una consultazione ora bisogna vedere hanno chiesto una consultazione sì hanno chiesto una consultazione mi sono espressa male hanno chiesto una e quindi siamo in attesa di avere questo ulteriore chiarimento all'ultimo chiarimento speriamo può darsi pure che dobbiamo fare un altro webinar la settimana prossima ci sta pure ci divertiamo e dire il contrario di tutto e stracciare tutta la motoristica che abbiamo predisposto no questo no questo assolutamente no cercheremo di riutilizzarla quindi non sicuramente allora andiamo avanti quindi nell'ottica di questa confusione totale quindi abbiamo vi abbiamo fatto comprendere quelle che sono attualmente i dubbi che persistono voi comunque dovete continuare a lavorare se lavorate voi lavoriamo anche noi in tutto questo no assolutamente no 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 dobbiamo favorire la ripresa dell'attività delle agenzie questo è l'imperativo che dobbiamo avere noi come tutta la categoria perché altrimenti rischiamo veramente di entrare in una fossa economica dalla quale non ci riprenderemo più quindi a prescindere da tutte le difficoltà di interpretazione legale dobbiamo escogitare delle soluzioni che ci consentano di operare di accorrere sicuramente di fatti la prima cosa che noi consigliamo ai nostri clienti è le opportunità offerte dalle moderne tecnologie favorire al massimo le visite virtuali questo sicuramente diciamo è un punto di partenza quindi prima ancora degli accessi io penso che in questa fase quindi prima ancora di procedere a quella che è la visita diretta di far di in effetti di favorire le visite virtuali in agenzia io penso che il 90% delle agenzie immobiliare oggi in effetti lo utilizza il sistema delle visite virtuali e come e mai come in questo momento in effetti risulta utile questo questa modalità di approccio all'attività di mediazione solo dopo io penso che in effetti non sto io qui a indicarvi quelle che sono le vostre modalità operative nel momento in cui il cliente ha individuato sulla base delle visite virtuali quello che più può rispondere alle proprie esigenze l'immobile che può più rispondere alle proprie esigenze allora in quel caso se proprio si dovesse proprio rendere necessaria la visita si procede alla visita diretta per cui in questo momento dobbiamo cogliere tutte le opportunità offerte dalla tecnologia e favorire al massimo quelle che sono le visite virtuali beh hai qualcosa da aggiungere Umberto? ma no ti seguo ti seguo anche perché mi è arrivata una comunicazione dalla regia che se dico un'altra parola mi spengono il microfono e allora vado velocemente abbiamo detto a questo punto solo nell'ipotesi in cui sia necessaria quali sono le modalità operative per gestire la visita dobbiamo dotare il cliente di un'apposita autodichiarazione che adesso andremo a vedere autodichiarazione che si accompagniamo quindi invitiamo a fare in modo che il cliente nel momento in cui si sposta per fare un sopralluogo presso un immobile abbia anche il documento del governo che attesti che le visite si possono fare proprio per evitare di andare in contrasto col soggetto che procede al controllo e poi prima ancora quindi tutto questo fare sì che quel motivo proprio perché in effetti la legge sancisce che deve essere comprovata quindi noi dobbiamo dimostrare il cliente deve dimostrare che si sta muovendo per un sopralluogo allora facciamo in modo che la visita sia preceduta da un invito da parte dell'agenzia che può venire tramite sms piuttosto che mail nel quale c'è il chiaro riferimento all'appuntamento presso l'immobile in modo tale che laddove ci dovesse essere un controllo nel initino cioè entra quindi nel momento in cui si nel momento in cui va ad effettuare la visita un documento che attesta che è l'invito che va a certificare che mi sto spostando in virtù quindi di questo invito che mi ha formulato l'agenzia immobiliare quindi in effetti Caterina dobbiamo dotare il cliente di una sorta di dotazione standard si devono avere una dotazione standard che noi abbiamo predisposto da questi tre documenti me li fai rivedere a video quindi ogni cliente a quale ci siamo una visita tradizionale deve avere questi tre documenti a disposizione esattamente quindi noi abbiamo l'autodichiarazione che abbiamo compilato ad hoc andiamo avanti quindi lo ritroviamo sul nostro sito al numero 5290 quindi già è stato caricato e quindi può essere tranquillamente scaricato andiamo avanti poi abbiamo una comunicazione e facciamo che l'agenzia quindi a decorre dal 4 maggio avrebbe già dovuto fare i propri clienti che sono diventati quindi è stata riaperta l'attività e che si è pronti quindi a riprendere le trattative o comunque la gestione degli incarichi che erano rimasti sospesi anche qui abbiamo predisposto un modulo ad hoc che è il 5288 già caricato sul sito abbiamo poi un altro documento che è quello dell'autorizzazione da parte del venditore ad accedere al suo immobile con esono di responsabilità per l'agente e per l'acquirente perché innanzitutto se noi abbiamo predisposto questa modulistica sulla base di quelli che sono gli ultimi chiarimenti del governo se il governo ha autorizzato le visite purché l'immobile e l'abitazione sia disabitata qualcuno ci deve dichiarare che l'immobile è disabitato sicuramente non è l'agenzia immobilare che si assume questa responsabilità ma lo è sicuramente ma proprio perché non esiste per l'agente immobiliare un modo per accertare in modo ufficiale che l'abitazione è disabitata e non mi si venga a dire perché non ci sono gli effetti personali perché questo certamente non basta quindi è solo il venditore che ci può dire se l'immobile è disabitato e quindi ci fa questa dichiarazione benissimo andiamo all'ultimo documento che in effetti è quell'invito che dovrebbe esibire il cliente al momento del controllo proprio per comprovare che lo spostamento è legato ad un sopralluogo abbiamo modificato anche la scheda visita ecco qui la scheda al di là di quelli che sono i passaggi fondamentali della nostra scheda visita immobile che puntualmente implementiamo ogni qualvolta quindi c'è la necessità di resistere a qualche eccezione nelle aule giudiziarie la particolarità di questa scheda visita immobile è quella di averla aggiornata all'emergenza Caterina questi documenti sono già disponibili sul sito? Sì sono stati già caricati dalla nostra splendida Clara sul sito quindi veramente splendida perché contestualmente la redazione ha provveduto anche a caricarli e sono in questo momento anche possibile scaricarli ok? ottimo io penso di aver concluso quello che è il mio intervento sei stata come al solito chiarissima e devo dire che sono arrivate anche un po' di domande vediamo di rispondere a qualcuna chiaramente risponderemo esclusivamente alle domande attinenti al tema trattato da Caterina Luciano ci chiede Umberto la gente immobiliare può spostarsi per lavoro anche fuori regione? assolutamente sì non c'è dubbio su questo poi c'è Vincenzo che ci chiede posto che il DPCM 26 aprile 2020 considera le attività immobiliari tra quelle di mediazione tra cui quelle di mediazione immobiliare non rientranti tra quelle sospese costituisce una ragione legittima di spostamento dei cassi presso un'agenzia immobiliare o effettuare un superluo e beh penso che abbiamo proprio risposto a questa domanda quindi non c'è da aggiungere altro Marco Marco dice nell'attesa dello scioglimento di questi dubbi ipotizzando un'uscita con i clienti per far visionare un immobile libro da persone cosa dovremmo dichiarare abbiamo risposto anche a questa domanda mi fa piacere perché vuol dire che abbiamo centrato allora Giuseppe Giuseppe ci dice la nostra interpretazione di loro errore non ci tutela in caso di controllo però ci dobbiamo attenere anche alle attività presenti in allegato 1 o 2 che significa? hai capito tu? va bene e ripeti va bene abbiamo tante allora Raffaele buon pomeriggio come sempre siete esaustivi e professionali volevo condividere con voi che martedì mi sono spostato per una visita dal comune di San Giorgio a Cremano ad un comune in provincia di Avellino il cliente è stato fermato ha dichiarato che aveva un appuntamento con la mia agenzia per poter visionare l'immobile perché doveva cambiare la sede legale la sua attività e noi hanno fatto la multa bene vuol dire che abbiamo anche dei vigili illuminati in giro Cristina quindi possiamo effettuare solo in casa in casa in realizzo disabitate no abbiamo chiarito che la norma non è chiara in tal senso deve essere sicuramente disabitata all'atto della visita Antonio Antonio dice senza offendere nessuno ma lo sciarmi dell'avvocato carretta non è uguale Antonio io vorrei sapere quanto gli paghi a questi tuoi fan allora Antonio è previsto un allegato che ci sono di dare responsabilità in caso di visita l'abbiamo appena presentato quindi hai anche il tuo bel allegato perfetto Cristina oppure possiamo recarci verso gli immobili abitati abbiamo risposto anche a questo se sono abitati in quel momento se c'è la presenza delle persone assolutamente no Giuseppe ho un immobile con inquilino all'interno devo farmi utilizzare il proprietario ed anche dal proprietario per entrare assolutamente sì perché lui dovrà convenire dovrà concordarsi con l'inquilino per far sì che sia almeno assente all'atto delle visite se vogliamo dare l'interpretazione più larga Giuseppe ci dice esso comunque abitato non capisco come mi comporto l'abbiamo chiarito Fravio ci dice conviene autocertificare che i clienti vengono in agenzia sull'immobile lo abbiamo detto bisogna dotarli del vostro invito e ve lo abbiamo anche preparato va bene ragazzi ci confermono che i documenti sono disponibili perché li stanno scaricando in contemporanea stanno arrivando anche molte vostre foto dei selfie che vi riprendono mentre seguite il nostro incontro e ci fa molto piacere ma non possiamo dilungarci oltre perché abbiamo promesso e abbiamo già assolutamente violato questa promessa di stare nell'ora ringrazio Caterina Carretta per l'ottima illustrazione e passo la parola all'avvocato Francesco Brescia per l'argomento conclusivo in ordine alla valenza legale delle firme elettroniche avanzate buon lavoro Francesco grazie grazie Umberto e buonasera a tutti concludiamo questo corso con l'argomento segnalato non solo da voi clienti agenti immobiliari ma presente in numerosi blog del settore credo che ognuno di noi in questi giorni abbia ricercato la parola firme elettronica firme elettronica qualificata firme elettronica digitale eccetera eccetera e cerchiamo di capire e di dare una risposta alla possibilità di sottoscrivere un contratto una proposta d'acquisto un incarico di mediazione un preliminare non in forma cartacea ma appunto in forma elettronica l'attributo elettronico sta proprio a indicare un qualcosa di diverso dal cartaceo che viene effettuato in modalità diverse dalla carta quale può essere non solo un pc un tablet o un telefonino ma anche un bancomat una pennetta eccetera eccetera per rispondere a questa domanda dobbiamo chiarire subito un principio nel nostro ordinamento c'è un principio che la sottoscrizione autografa cioè la sottoscrizione che è riferita al suo autore è un requisito indefettibile di validità del contratto cioè un contratto senza firme non è valido non è assolutamente valido vediamo ora di capire se la firma elettronica può soddisfare questo principio e analizziamo i vari tipi di firme elettroniche perché è giusto fare una preliminare chiarezza esiste la cosiddetta firma elettronica chiamiamola semplice cioè la firma elettronica cioè quell'insieme di dati connessi tra loro realizzati su strumenti diversi dal cartaceo quale può essere l'user d e la password della casella di posta elettronica il pin del banco ma è di fatto un insieme di dati che ci identifica e quindi è considerata come firma elettronica semplice ma anche altri strumenti la carta di identità e possiamo fare un esempio pratico anche la firma sotto una mail può essere considerata come firma elettronica in questo caso io propongo al buon Umberto di acquistare l'immobile sito in Salerno a quel determinato prezzo Umberto se accetta con una mail abbiamo scambiato solamente mail ma di validità legale non c'è nulla perché la firma elettronica è sicuramente non utilizzabile per sottoscrivere proposti o contratti non ha alcuna efficacia per tutta una serie di ragioni sono dispiaciutissimo Francesco perché mi incassavo 750 mila euro l'immobile non è neanche il mio quindi mi è andato bellissimo ma è così una vendita alla fontana di Trevit e Totò insomma vediamo invece un secondo tipo di firma elettronica che è la cosiddetta firma elettronica qualificata che si intende una firma che viene emessa ottenuta con una procedura tra virgolette telematica informatica che garantisce previa l'acquisizione di un apposito certificato la certezza e la provenienza del proprio autore un esempio tipico di firma elettronica qualificata è la firma digitale che usiamo noi avvocati commercialisti ingegneri e che chiunque in realtà può dotarsi mediante l'acquisto di una smart card o di un token e un esempio di firma digitale può essere questa la stessa proposta fatta con mail viene fatta con firma digitale come vedete vi è la cosiddetta noi in tribunale la chiamiamo nocchettina che sarebbe questa cosettina rossa questo riquadro rosso e questo digitalmente da francesco brescia con il certificato e il codice di identificazione per avere questo è necessario un collegamento tramite un server pubblico che il token la chiavetta elettronica fa e garantisce ed è un certificato opponibile a chiunque questo ad esempio è il certificato che io posso scaricare per vedere ad esempio se la mia firma è certificato o è digitale e questo vuol dire che una proposta del genere firmata digitalmente è assolutamente valida ha una valenza come se fosse una firma diciamo olografa come se fosse una firma messa davanti a voi o addirittura si può parlare anche di firma autenticata quindi in questo caso Umberto se io ti avessi proposto con firma digitale la tua proposta se la mia proposta sia accettata avrebbe concluso il contratto io però ho messo 10.000 euro proprio per evitare problematiche ma è sempre grasso che cola perché l'appartamento continua a non essere mio diciamo che magari con la firma digitale risolviamo ogni dubbio ma è commercialmente inopportuna perché dovremmo dotare o il cliente stesso si dovrebbe dotare di token chiavette e i costi non sono eccessivi ma comunque se non c'è l'esigenza un acquidente per firmare una proposta o per firmare una scheda visita non si andrà mai a dotare di una chiavetta per la firma digitale e andiamo a vedere il terzo tipo la cosiddetta firma elettronica avanzata cosiddetta FEA che negli esempi è la firma che viene messa come dire negli sms nei pin o quella che mettete in banca su quegli appositi apparecchietti con la pennina elettronica la firma biometrica cioè è un insieme ho preferito fare un esempio grafico perché se andiamo a leggere la definizione sicuramente non inquadriamo ma se la vogliamo dare la firma elettronica avanzata è un insieme di dati allegati o connessi a un documento che consentono che cosa? L'identificazione del firmatario la connessione univoca al firmatario cioè significa che quella firma è messa non solo da Francesco Brescia ma solo Francesco Brescia è in grado di poter mettere quella firma su quel determinato agizio ed è creata con dei mezzi sui quali io firmatario posso conservare un controllo esclusivo quindi vengono assicurate e poi le vedremo dopo queste tre procedure e assicurando queste tre procedure la firma avanzata la firma elettronica avanzata ha una sua validità anche se nell'ambito di uno studio la norma che ha introdotto queste tipologie di firme manca a farlo apposto è anche qui un DPCM fatto nel nel 2013 e l'articolo 60 dava una visione particolare dice la firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle presente regole è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto lasciando stare l'articolo che è il soggetto che ti fa consentire la firma che può essere l'agente immobiliare se è dotato di un programma o l'impresa che utilizza questo programma questo che cosa significa nella nostra operatività e noi lo insegniamo da anni anche nelle aule di giustizia che il mediatore l'agente immobiliare non è parte del contratto non è parte del contratto preliminare quindi se vogliamo analizzare questa norma significa che la firma avanzata può essere utilizzabile per un incarico di mediazione per sottoscrivere una scheda visita ma magari per far scambiare una proposta e un'accettazione no perché io se ho capito bene quindi Francesco se un agente immobiliare si compra questo sistema di firma elettronica gli può essere utile solo per farsi firmare l'incarico se analizziamo questa norma e anche qui una interpretazione come dire fredda dovrebbe essere così proseguendo però nello studio che cos'è la firma grafometrica la firma grafometrica è una particolare firma di elettronica avanzata quindi rientra in questo terzo tipo di firma quella là magari apposta su di un tablet al termine di un documento ma per essere considerata firma elettronica avanzata e quindi per risperchiare tutti i requisiti deve rispettare le specifiche stabilite in quel dpcm che abbiamo prima nominato l'unico problema e poi concludo veramente che molti sollevano e magari lo avete trovato anche voi in alcuni forum è che non può essere utilizzato per i contratti immobiliari e dobbiamo fare una precisazione questa limitazione nasce perché l'articolo 21 del codice dell'amministrazione digitale dice che le scritture private di cui agli articoli 1350 dei numeri 1 e 12 se fatte con documento informatico devono essere sottoscritti appena di nullità o con firma elettronica qualificata o con firma digitale cioè la seconda tipologia di firma che abbiamo visto ha una sicura validità però andiamoci a leggere quello che interessa l'articolo 1350 numero 1 parla di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili quindi sicuramente un atto pubblico non si può fare per firma elettronica avanzata ma neanche una scrittura privata di vendita non un preliminare ma una scrittura privata di vendita non si può fare una scrittura privata di vendita anche se lo sappiamo la scrittura privata di vendita è molto uno strumento utilizzabile ma commercialmente non ne ho mai sentite le scritture private di vendita e poi i contratti di locazione di beni immobili ma per una durata superiore a 9 anni quindi i contratti di locazione classici 4 più 4 o i 6 più 6 sono tranquillamente editabili e sottoscrivibili con firma grafometrica quindi questo limite sicuramente non rientra io Umberto ho concluso spero ottimo assolutamente assolutamente Francesco come al solito sei stato precisissimo molto molto completo per concludere leggiamo le ultime domande che sono arrivate c'è Cristina che dice ringrazio per questo ottimo corso siete sempre un passo avanti ti ringraziamo noi a te Cristina poi abbiamo Maria Rosaria che ci chiede ma per tutti questi modi non è necessaria la presentazione in camera di commercio assolutamente no si tratta di modulistica complementare l'obbligo di registrazione riguarda solamente la modulistica essenziale ancora Cristina ci dice mi confermate è possibile rivedere il corso entrando nel sito oggi diventa un po' difficile per problemi di connessione si il corso verrà presentato verrà caricato entro un paio di giorni sul sito Raffaele ci dice è possibile far firmare un cliente una proposta che noi gli inviamo e lui la firma e la rigira a noi tramite PEC assolutamente no la PEC non assicura l'autenticità della firma la PEC assicura solamente la ricezione non assicura l'autenticità della firma Vincenzo volevo chiedere se io oggi ritiro una proposta d'acquisto con il cliente in ufficio le talità potrebbero multare il cliente facendo riferimento alla data della proposta ma l'accesso del cliente in ufficio è consentito Vincenzo il problema è che in questa attività in questa ricezione dovrai rispettare tutte le indicazioni circa l'accesso e il distanziamento Ragazzi abbiamo troppe 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 domande noi abbiamo promesso di stare nell'ora ma purtroppo abbiamo sforato anche questa volta evidentemente come avevo detto gli argomenti sono tanti ci farà piacere se ci inviate i vostri i vostri selfie mentre state visionando i nostri webinar vi invitiamo a suggerirci le date e gli orari in cui volete assistere ai prossimi webinar in modo che non vadano a confliggere con i vostri normali impegni impegni di lavoro ci farà piacere anche se ci consigliate i prossimi argomenti che sono di vostro interesse io ringrazio i nostri direttori l'avvocato Caterina Carretta l'avvocato Francesco Brescia e l'avvocato Gerarda del Guercio e a questo punto non mi resta che darvi appuntamento per la prossima settimana in bocca al lupo ragazzi forza e buon lavoro buonasera 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 a tutti non ti metto qua che mi fai emozionare io lo faccio emozionare sì sì non ti metto qua non ti metto qua non ti metto qua la condivisione schermo allora parte Gerarda poi va Caterina e in ultimo Francesca cerco non premete la via di emozione tutti prima le simulazioni le cominciavamo un'ora prima ma le cominciavamo a 5 minuti ma ci vorrò un po' corsa comunque guarda per il corso è proprio comoda questa serie è una lungimirante sarà ben in tazzo tu quando dici io vedo al di là del mio tazzo allora mi sconfinate 4 3 2 1 0 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 13